Nel 3 a 0 della Juve Stabbia contro la regina eccezionale la prestazione di Piero Vecchione arrivato Piero innanzitutto ti salutiamo ciao buonasera a tutti arrivato al primo posto a pari punti con Mattia Bisceglie io te lo dico però il premio l'abbiamo dato a lui in quanto ce n'è soltanto uno però prestazione importante la tua quest'oggi mi fa piacere mi fa piacere molto perché era da tempo che non venivo premiato per noi un premio importante una grossa soddisfazione quindi mi fa piacere che sono ritornato qui però una testa della classifica l'hai riconquistata perché con Mauro al di fuori oggi sei tornato tu al primo posto in classifica fa piacere fa piacere anche qui sono piccole soddisfazioni che fanno piacere oggi ti sei scoperto esterno poi ti sei scoperto centrocampista centrale davanti alla difesa poi ancora mezzala mister ti schierò ovunque perché sei un po il jolly di questa squadra diciamo che è importante secondo me saper ricoprire tutti i ruoli quindi se ci riesco meglio meglio per tutti per me per la squadra per il mister e poi aggiungiamo la pennellata al centro sul primo gollo sul cross un cross perfetto al bacio per Mario Elefante abbiamo trovato questo assist speriamo di trovare anche il gollo che è ora e ci hai provato e ci sei andato vicino più volte e purtroppo non è arrivato aspettiamo testa al messino testa al messino grazie grazie a voi il loro spazio il loro mondo ecco il segreto di una famiglia felice le camerette fattore di felicità familiare le camerette arredamento specializzato per ragazzi ascafati www.lecamerette.it una pizza deliziosa rosticceria di prima qualità gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato non puoi non provare le nostre specialità non puoi non venire da noi melis pizza lo trovi in via l'europa 82 a castellammare distante every day is beautiful crediamo che la bellezza sia una cosa raggiungibile da tutti insegniamo che essere belli non è un sacrificio non deve essere necessariamente dispendioso o qualcosa che appartiene agli altri essere belli è semplicemente sentirsi bene tutto il giorno tutti i giorni della vita offriamo prodotti di bellezza delle grandi marche e consigli per ogni giorno della vita del cliente aiutiamo le persone a stare bene con se stesse e di conseguenza con gli altri ci rivolgiamo con rispetto e professionalità siamo sempre disponibili ti aspettiamo da Olshet vieni a trovarci a Pompei nel centro commerciale la cartiera Flyline Sport veste lo sport e il tempo libero da noi puoi trovare tutto quello che ti serve le marche più prestigiose novità di grido tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri adidas nike kappa puma macron e tanti altri il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti lo sport è passione la passione lo sport e non lo sappiamo bene vieni a trovarci in via d'Europa 51 g a Castellammar di Stabia Napoli hai voglia di pizza fritti e rosticini o di primi secondi e dolci gustosi di un drink o di un cocktail questo è il posto che fa per te l'incrocio sa prenderti per la gola la tradizione di un'antica ricetta gli ingredienti naturali e tanto amore il giovedì venite a provare il nostro nuovo arrivato il buttaziello ondufato chiedetelo provatelo e poi ci direte typical Italian food l'incrocio lo puoi trovare a Torre Annunziata in via Vittorio Veneto 360 per prenotazioni chiamalo 081862 2836 grandi giochi per piccoli giocatori dove da Fantasie di Antonio Procida dove assortimento e qualità non hanno uguali bambini prima di scegliere venite da Fantasie la casa dei balocchi più bella che ci sia tutto quello che desiderate ma proprio tutto e altro ancora Fantasie e giocattoli lo trovate in via da Vernola 152 a Castellammar di Stabia Grazie a tutti